Come vi siete trovati al Fionli di quest'anno? Molto bene, secondo anno di mia partecipazione al Fionli trovo questo evento veramente molto utile e interessante sia dal punto di vista di networking sia dal punto di vista di nuove visioni e idee per progetti futuri. Ho trovato anche un target di riferimento di giovani, per questo vorrei menzionare un progetto di Orovilla Novo che si chiama Orovilla Under 27 che è nato per favorire l'investimento di giovani verso il mondo di investimento in metalli preziosi e coinciste in prezzo agevolato del canone per piano di accumulo in oro fisico e anche prezzi agevolati per le monete d'oro da quelli più comuni come le sterline fino a quelli più rare come i queen beasts.